Tumore musica, 30 agosto 2015, una data memorabile che unisce due fuori innamorati, accogliamo con un grandissimo applauso all'Alessa Luca Cispozzi! Tutti su quale meri a Ritbalo! Su, 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 su! Su, 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 su! E ancora! E si balla! Vai Sposi! Iniziamo alla grande con il giusto ritmo! Via! Tutti con le mani su, via via ragazzi, dai! Tutti quanti insieme anche laggiù! E qui tutti con le mani! Ciao! Ciao! Eccola! Pronti, pronti, pronti! Le mani! E adesso voglio sentirvi tutti quanti e per gli altri sposi! Ippi! 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 Amori, grandi applauso! Mamma che cresso sprint ragazzi! Sei! Con tanto gli occhiali ragazzi, fantastico! Eppi! Sopenda, fokio, fino a tupio! Sopenda, fokio, fino a tupio!